Vedo che il campione regionale gli sta dando dei consigli, ovviamente la squadra è compatta, da Corato, vengono in squadra compatta, tutti fan, tutti pronti, appena ci danno il via. Che Vespa ha lei? PIX. Quale PIX? P200E. P200E, vedo che non vuole essere disturbato, si sta concentrando. Numero 7, Fusaro, signori e signori siamo pronti? Sì, quando vuoi. Quando vuoi. Vedete la difficoltà delle Vespe cosiddette large? Quindi meritano veramente un grande applauso questi signori perché... Prepariamo già la prossima? C'è qualcuno che ha visto la qualità dei partecipanti, si sta allenando nella zona prove. mentre vediamo qui un bellissimo 200, penalità, la prima, squalificato, può terminare lì la prova, grazie. Ah no, vai, 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 vai. Ma è squalificato o no? Grazie. Grazie.